Come vi chiamate ragazzi? Allora, mi chiamo Monica Lutonica Tony, oh Tony, italiani dove venite? Noi, io vengo da Madrid Nel tipo di spagnolo Occhio bello Occhio bello, e d'occhio bello che si sa fare qui al commento? Eh sai, mi sono stancato di vivere nella metropoli e subito al commento per... Ti trovi bene? Fai vedere ragazzi Un attimo, io ho visto che ho dei dubbi L'uscita E di là Di là, di là Cosa fate? Bisogna mangiare? Nutella? Oggi mi sono mangiato i bianchi Io Vitelli Vitelli? No, io devo essere umani Sei Sei bene Ma l'alcolora, io non lo... Buono legroni Infatti il legroni, vedi, tutto qua salta fuori No ragazzi, non fate così Oh però No, però dico così Va bene, non c'è Scusa la cosa Poi la vede la madre, sta cassetta Tua madre lo sa che fa questo lavoro, è contenta No, io ti dico più a questo prete, infatti mi sollista Sono prete Stefano ha tutti i risultati, eh? Sì Ho detto che soffre praticamente di Aertes Analyse Schoolings Sinflex Mi piaci ragazzo, scusate, hai già studiato medicina? Hai già fatto medicina? Guarda, anatomia, io sto studiando, praticamente, persone un po' particolari Analyse Schooling Sinflex Allora, lui ci ha fatto volontario, mi ha detto Guarda dai, se io questa Voglio in frenata Gli ho rifiuti tu Ti capisco che non hai in sozzagli lato No Come no? Ah, è vero che c'era il valese che si è sbarcato gli scusi? Beh... Si è già fatto il permesso di giusti Sono bene sbarcato, è vero sì Ragazzi, Bruno è andato bene Mi piacete Vediamo di farvi lavorare da qualche parte Grazie